In arrivo nelle sale cinematografiche il nuovo film con Checco Zalone, diretto da Gennaro Nunziante, Quo Vado, un film che parla dell'italiano medio e dell'oramai tanto ambito posto fisso. La trama narra la storia di uno Zalone, oramai quarantenne, che vive ancora con i genitori, fidanzato con una ragazza che non intende sposare, senza figli e con un lavoro a tempo indeterminato, il cosiddetto posto fisso, presso l'ufficio provinciale Caccia e Pesca. Sembra avere proprio tutto il nostro comico fino a quando non viene varata una riforma della pubblica amministrazione che abolisce le province e così il suo stato di single lo rende idoneo alla richiesta volontaria delle dimissioni, a fronte però di una buona uscita contenuta. Checco, consigliato dal senatore che gli ha fornito il posto, non cede alle richieste della dirigente Sironi e lei per liberarsene lo spedisce in giro nelle sedi più disagiate e scomode d'Italia. Zalone si adatta e non molla, così alla granitica dirigente non resta che tentare un'ultima carta, mandare l'impiegato al polo nord in mezzo alle nevi fredde e gelide e agli orsi bianchi. Qui conosce Valeria, ricercatrice di grandi ideali e di larghe vedute, che cambierà il destino del nostro eroe e gli farà scoprire i piaceri e le responsabilità di una vita civile. Non perdete quindi l'appuntamento allo scoccare della mezzanotte del 1 gennaio 2016 con una nuova commedia che vi farà ridere ma anche riflettere sull'attualità socio-politica nazionale, sul lavoro, sul pubblico impiego, la mala politica e la tutela ambientale.